Bentornati, bentrovati a Citofonara di Nolfi, prima citofonata del mattino con Bruno Dabbacci, buongiorno, il leader del Centro Democratico che si candida all'Europeo, non lui ma il Centro Democratico, con la lista che si chiama Scelta Europea, che unisce Scelta Civica, Centro Democratico e Fare per fermare il declino, dico bene? Perfettamente. In alleanza con l'Alde, che sarebbe l'alleanza dei liberali democratici europei, quindi la famiglia che non è né PPE né PSE. Così abbiamo dato tutto il quadro politico possibile per configurare Bruno Dabbacci, che è un sostenitore di questo governo, è in maggioranza. Allora, alla fine questi 80 euro abbiamo capito chi paga. Pagano le banche, va bene? Beh, non mi pare una cosa equilibrata, tenendo conto che l'operazione di rivalutazione delle quote Banca Italia, probabilmente era avvenuto con una tempistica che aveva lasciato aperto dei punti interrogativi. Ora le banche vengono chiamate a fare la loro parte, mi sembra giusto. Quindi qualcosa gli era stato dato prima col decreto chiamato IMU Banca Italia, adesso qualcosa gli viene preso, gli viene ripreso. Mi pare che il conto per le banche sia di una miliardata, dico bene, insomma, più o meno, per finanziare la riduzione del cuneo fiscale. È giusto dare i soldi in busta ai lavoratori e rallentare invece sul taglio dell'IRAP? Secondo me il sostegno alla domanda in questo momento è assolutamente fondamentale e credo quindi che rimettere i soldi in busta paga e farlo in maniera massiccia con le disponibilità che ci sono è la posizione giusta. Nel passato quando si è fatto un po' e un po' nessuno ha sentito gli effetti. Mi traduco il sostegno alla domanda, vuol dire voi questi 80 euro cari itali ascoltatori ve li dovete andare a spendere, non ve li mettete a pizza così c'è a Roma perché altrimenti non sostenete la domanda, dovete comprare roba in maniera che l'industria o comunque l'economia riparta, perché la brutta notizia di ieri è che l'economia riparte ma riparte piano piano, cioè una ripresa che è una ripresina quasi inconsistente, zero virgola. Soprattutto il fatto che cresciamo meno della Grecia, il che dimostra che è un paese che ha bisogno di accelerare sulle riforme, che poi le riforme siano state imposte o sfidite come nel caso della Grecia o altro, poco importa. Gli effetti di un'azione riformatrice penetrante sono fondamentali in una fase economica così critica come questa, non si può stare a dormire. Tabacci, lei ha capito come si fa a dare i soldi agli incapienti, questo non ci è stato spiegato ieri in conferenza stampa, come si fa? Perché si trovano una riduzione di IRPEF e gli incapienti di IRPEF non la pagano, come si fa? Dovrebbe essere una modalità con cui in busta paga c'è un riconoscimento ulteriore. Quindi aggiungono quattrini insomma, questo è il meccanismo. Perché questi già non pagano tasse, tant'è che sono incapienti. Quindi la busta paga ce l'hanno netta sostanzialmente. Esatto. I tagli riguardano un po' anche i manager di Stato, diciamo così, c'è un tetto che viene collocato al livello del reddito del Presidente della Repubblica, 238 mila euro. È giusto o si rischia di impoverire la pubblica amministrazione e poi il manager, quello importante, quotato, non ci pensa proprio di venire a gestire? Ma in questa fase è giusto, dopodiché bisognerà mettere le retribuzioni in parallelo con i risultati, però il lavoro che bisogna fare sulla definizione dei risultati diventa decisivo. Per fare un esempio concreto, oggi nella pubblica amministrazione i premi vengono adatti a prescindere dei risultati, di automatismo, sono tutti premiati, il che non è vero, il che non è giusto, non è neppure serio, quindi è evidente che bisogna fare un lavoro di fissazione di obiettivi e legare le retribuzioni al loro raggiungimento. Poi c'è l'altra pagina, una pagina molto importante, che è le privatizzazioni, si parla di 12 miliardi già nel 2014, quindi roba da fare subito, con poste, ENAV, si può fare tutta questa roba, è giusto farlo, funziona? L'indicazione è corretta, il punto è il seguente, poiché mi par di capire che questo DEF sconta il fatto che ci sia una discesa ulteriore dello spread, quindi che la gestione del servizio del debito costi di meno di quello che è preventivato, però i risparmi si verificano alla fine dell'anno, non è che sono un corso d'opera. Già oggi con il calo del DEF ci sono stati risparmi nel costo di collocamento del debito pubblico per circa 3 miliardi e mezzo, però questi si possono accertare alla fine dell'anno. Va anche detto però che la legge di stabilità si basava su previsioni di crescita superiori all'1%, mentre invece adesso siamo a una crescita accertata intorno allo 0,8%, questo incide sui conti previsionali, ci sarà bisogno poi di correggere qualcosa? Io penso che con il discorso che l'ho fatto prima le cose si terranno, certamente è un segnale molto preoccupante, ma d'altro canto è realistico perché quando su questi documenti si scrivono delle cose che poi non sono raggiungibili tutto diventa complicato, perché vorrei ricordare che il DEF è un documento di cornice e poi ci sono i provvedimenti, i provvedimenti devono essere coerenti con le indicazioni di fondo e devono trovare un Parlamento in grado di implementarli e soprattutto di rispettarne le condizioni, perché se poi ognuno ha la sua da dire è evidente che le cose si complicano. Quindi lei mi dice che abbassandosi lo spread i soldi che si risparmiano l'aria riescono a tappare la mancata previsione sull'aumento della crescita. Secondo me sì, adesso devo approfondire le cose, ma mi pare che questi siano i numeri. I vasi siano un po' comunicanti insomma. Non c'è dubbio. L'altra attività che Renzi vuole mettere in campo è la soppressione dei cosiddetti enti inutili, anche qui l'elenco è lungo, CNEL, ACI, Consorsi, Camere di Commercio, agenzie, autorità indipendenti, via le società non di servizio pubblico, anche questo, un vast programma direbbe De Gaulle, no? Guardi, io ho fatto un lavoro in questi ultimi mesi sui temi della semplificazione e emerge con tutta chiarezza che non bastano il taglialeggi e il tagliaenti, dobbiamo affrontare il nodo della qualità della pubblica amministrazione e legarla in maniera molto stretta ai temi della semplificazione. Comunque non c'è dubbio che il CNEL da tempo aveva esaurito i suoi compiti e le sue funzioni appariva un po' come un cimitero degli elefanti e che è giusto che si vada oltre e che soprattutto non si dia spazio a un lavoro che sembrano lavori socialmente utili per intenderci, solo che mentre i lavori socialmente utili fanno riferimento a dei salari immaginari, dati comunque delle persone che sono in una condizione di grande difficoltà sociale, il fatto di mantenere in piedi organismi come il CNEL non risponde a nessuna funzione particolare, tanto più che ora con il superamento del Senato che dà la fiducia al governo il compito di svolgere azioni di controllo ed iniziativa su materie assai complesse e delicate può essere assunto direttamente dal Senato. Eccoci qui allora dentro alla vicenda pure politica propria, insomma la riforma del Senato, lei sa che ieri si sono cominciati ad annusare minoranza PD e Movimento 5 Stelle attorno alla proposta del senatore Chiti, un senato diverso dal senato immaginato da Renzi, al di là della qualità delle proposte, perché secondo me non è questo il terreno su cui si può discutere. Renzi ha le condizioni, visto che lei è un navigatore di decenni di politica insomma, ha le condizioni per tenere il suo partito su questa riforma o alla fine i famosi 22 senatori gli possono scappare di mano e inguagliare tutto il progetto? Guardi, io penso che come giustamente ha detto lei la questione non è tanto sui temi dei contenuti che giustamente devono essere messi a punto ed è giusto la riforma farla bene, ma sulla ineluttabilità del superamento di un sistema bicamerale per andare verso un'unica Camera che dà la fiducia al governo e penso che questo obiettivo dovrà essere raggiunto e arriverà anche il contributo determinante del Partito Democratico. Unito quindi insomma, riuscirà a tenere? Secondo me non ha alternative anche perché guardi, Renzi è l'ultima spiaggia, ovvero l'ultima carta, non è che poi ce ne sono altre. Diciamogli alla papale papale, a questi senatori o questo le elezioni insomma, la cosa non gli fa molto comodo. A parte le elezioni è proprio il totale fallimento di una classe dirigente politica che ha mostrato la corda in questi anni. Noi veniamo da un ventennio che definire inconsistente nei risultati è dire poco. Per molti aspetti è perso un ventennio orribile, soprattutto se paragonato ai 50 anni precedenti. Senta, è anche la vigilia oggi della grande decisione su Berlusconi. Allora, questa figura con cui lei ha battagliato per anni e anni, appunto a proposito dei due decenni, diciamo così, insomma. Una figura che vede una sorta di declino, ma Berlusconi domani vuole andare in tribunale. Immagino la decisione giudiziaria a lei interessi tutto sommato relativamente, però sicuramente c'è un problema del cosiddetta area dei moderati di questo paese che rischia di trovarsi a queste elezioni europee abbastanza, diciamo, priva di rappresentanza politica forte, che forse Italia è verso il disfacimento. Che fotografia scatterebbe? La mia sensazione è che l'area dei moderati ha subito in questi anni proprio le contraddizioni dell'agire di Berlusconi che da un lato affermava la volontà di dare uno sviluppo a una politica liberale e dall'altro era totalmente impagnato nelle sue vicende personali o nei suoi interessi e questo ha portato oggi ad una totale paralisi, per cui sia il sostegno al governo Letta, poi negato, sia gli accordi fatti con Renzi, poi un po' contraddetti, lasciano intendere che le questioni sono intimamente legate alla vicenda personale del Cavaliere, che non è risolvibile perché siamo di fronte ad una sentenza che è basata in giudicato e che deve eseguire la pena, non è che c'è un'altra possibilità, non possiamo perché capo di un partito, ho capito, anche Renzi in Germania era il leader del Monaco Caldo, del Bayern Monaco, ma non per questo ha immaginato che essendosi più o meno macchiato di una responsabilità uguale, che era un reato fiscale piuttosto grave, lui ha preferito andare in carcere, ora io non voglio suggerire il carcere per nessuno, però non può essere una cosa che finisce in comica o in una macchietta, c'è una sentenza, la sentenza deve essere eseguita e Berlusconi secondo me deve riconoscere questo fatto, non può pensare che le mani libere gli servono per continuare a contestare non solo l'esito di un procedimento giudiziario, ma anche in modo della magistratura, perché così si sconfina in un quadro che insomma, altro che moderati. Ecco, io questo ora lo voglio chiedere al leader che ha attraversato la storia di un'area, perché lei è stato un grande leader democristiano, presidente della regione Lombardia, ha vissuto per un segmento anche la vicenda del centrodestra italiano, ora si ritrova con questa piccola formazione, ma insomma lei l'area dei moderati la conosce, è possibile che questo pezzo d'Italia sia così irrilevante, qualcuno dice maggioritario nel paese, sia sostanzialmente privo di rappresentare chi è Toti, chi è che rappresenta adesso questa realtà, con tutto il rispetto per voi, ma siete nei sondaggi tra il 3 e il 4%, cioè che è possibile tutta questa gente che ha sempre votato in Italia storicamente per la DC, è il PD la nuova DC, è Renzi la nuova leader sui dei moderati italiani. Infatti il paradosso vero è proprio questo, è che con la scomparsa della DC tutta quest'area che è sempre stata maggioritaria, lo è ancora nel paese, diciamo non ha più trovato una rappresentanza adeguata, né può essere il PD, anche il PD di Renzi che comunque aderisce alla famiglia socialista, la si è aperto degli spazi a un mondo che non può essere rappresentata come ha detto lei, né da Toti né da altri, anzi il fenomeno Berlusconi è un fenomeno che invia di esaurimento, ma il problema della rappresentanza di quest'area è tutto aperto. Sì, abbiamo uno spazio politico molto grande, la stagione politica che è prossima dopo le europee, che sono evidentemente una tappa in cui sostanzialmente si facciamo l'ennesimo referendum, no? Renzi sì, Renzi no, più o meno siamo da quelle parti. In campo diciamo che con la vicenda, così come si è andata dipanando, ci sono due figure preeminenti, da un lato Renzi e dall'altro Grillo, può spiacere questa cosa perché io non sono certo un tifoso di un simile bipolarismo, però in effetti anche per la semplificazione della comunicazione questo è quello che appare. Renzi intanto è a Verona per il Vinitaly, in questa mattinata avremo anche un'altra conferenza stampa del Presidente del Consiglio, questo molto berlusconiano, occupa i media in una maniera straordinaria Matteo Renzi? Beh, su questo è abilissimo, devo dire che tra l'altro andando al Vinitaly non sbaglia perché è uno dei comparti nei quali l'Italia in questi anni ha fatto delle performance straordinarie, superando perfino i francesi e diventando forse la prima potenza mondiale nel campo della qualità dei prodotti vitivinicoli. Benissimo, grazie a Bruno Tabaci, in bocca al lupo per scelta europea e buona continuazione. Grazie a Bruno Tabaci.